Dario Onardone, direttore responsabile del sito fcz.it che si occupa e molto bene di triathlon, di cui Dario tu stesso sei un esperto ormai da un quarto di secolo. Che mondo è e quanto sta crescendo in questi ultimi anni? Sì, ho cominciato nel 95 e devo dire che negli ultimi anni il nostro triathlon ha finalmente uscito da quel mondo di nicchia, che lo ha relegato per tanti anni. Insomma, grazie soprattutto agli eventi importanti che anno dopo anno continuano a crescere, soprattutto anche nel territorio romagnolo che è un po' il fiore all'occhiello con grandi eventi internazionali che hanno caratterizzato un po' tutta la stagione. Quindi davvero un triathlon che sempre di più sale di notorietà, di importanza e si è tanto anche un po' quel falso mito di sport che non era per tutti. In realtà a chi piace un po' far fatica, chiaramente, a chi piace notare pedalare e corre, ecco, il triathlon è l'ideale perché è uno sport assolutamente divertente e molto gratificante. Dopo il weekend dell'Ironman a Cervio ci sono tutta un'altra serie di eventi in tutta Italia e non solo. Alla fine del mese di settembre c'è un appuntamento molto importante con i campionati italiani di triathlon sprint, che, questa è la bellezza anche del triathlon, riguardano sia gli elite, quindi i professionisti, sia gli age group, quindi gli amatori, coloro in quali, come sottoscritto, insomma, si divertono facendo triathlon. Anche con la formula squadre, che quindi presuppone una partecipazione di più persone nello stesso team. Grande divertimento, quindi questo si svolgerà alla fine del mese di settembre, dicevamo, a Lignano Sabbia d'Oro.